buon pomeriggio ce l'abbiamo fatta come promesso io sono costantino e io sono emilio ciao emilio ciao questa puntata come dicevamo all'inizio puntata promessa nel senso che avevamo detto i nostri ascoltatori che ci saremmo rivisti dopo l'uscita di anzi risentiti dopo l'uscita della della 16 2 e così è stato voglio dire anche in barba al periodo super complicato del del natale che arriva stiamo registrando questa nuova puntata speriamo di farne un'altra per farci gli auguri di natale certo certo quella di con auguri di natale poi ci fermiamo poi inizia la nuova serie serie 4 poi con il futuro 2023 allora senti partiamo subito io direi da questa uscita 16 2 io ho installato un po su tutti i device quindi ios mac os watch os e ipad os avevo provato in realtà la beta ma solo su su iphone a me sembra una una versione una mini release abbastanza stabile non noto peggioramenti di nessun tipo e tutto sembra abbastanza solido specie su mac os avevo dei problemi legati alla gestione del wake up che non so perché ogni tanto quando ci sono degli aggiornamenti anche minori di sistema operativo con il monitor esterno io utilizzo il macbook quasi sempre in modalità monitor esterno succede capita spesso a me non me ne preoccupo più che a volte con un aggiornamento ad un certo punto il monitor esterno non viene svegliato correttamente dalla tastiera e dal mouse bluetooth e questo appunto mi succedeva con la prima versione di ventura adesso sembra che la cosa sia rientrata cioè dire tutto mi sembra più stabile e almeno il monitor si sveglia a comando correttamente sì secondo me era un metodo di upselling per farti comprare il monitor quello che l'xdr l'oro però non ci sono riusciti io c'ho il mio fido lg e devo dire ogni tanto mi viene per testa di cambiarlo perché oramai ha fatto un po la sua età soprattutto il i cristalli del monitor si si vede che sono un po vecchi perché a volte fanno retain dell'immagine c'è un po di ghost di fenomeni di ghost però ancora non sono convinto sicuramente ne abbiamo già parlato in passato non credo proprio di spostarmi su un ordine di grandezza come quello dei dei monitor apple ci sono belli nuovi dlg la nuova la nuova serie probabilmente quando sarà mi sposterò su quelli sì mi sembra una buona idea nemmeno io intenzione di investire denari su un monitor al momento tra l'altro notizia proprio di questi giorni sembra che apple abbia perso questa questa sfida legale per tutti i fortunati possessori della della dei macbook pro con butterfly keyboard no tutti i macbook pro con touch bar per intenderci quelli avevamo la tastiera ultra sottile costruite e disegnata da johnny hive sembra che adesso abbia iniziato a mandare delle email a tutti i possessori di questi computer che negli anni hanno dovuto sostenere delle spese legate alla sostituzione alla riparazione della tastiera perché sai a volte restavano incastrati i tasti c'erano alcuni che non funzionavano e adesso stanno cominciando a rimborsare questi denari avevo uno di questi macbook e l'ho fatto riparare però all'epoca io non pagai nulla non so se ne abbiamo parlato in passato ma sì sì ricordo loro hanno fatto tutto in in garanzia c'è direi ho portato il computer all'apple store hanno accertato il problema se lo sono tenuti quindi hanno cambiato il clamshell di sopra e ma non è uscito un centesimo credo che gli utenti a cui si fa riferimento siano quelli della prima ora perché all'inizio il problema non fu riconosciuto da apple diciamo immediatamente e i primi utenti che lamentavano questo problema se la questione era fuori garanzia ovviamente dovevano pagare l'intervento poi fecero l'estensione di garanzia e quindi diciamo gli interventi erano più o meno gratuiti per tutti probabilmente loro faranno mi sono sempre chiesto come funzionano questi rimborsi così massivi probabilmente faranno una ricerca di tutti gli utenti che hanno fatto un intervento di assistenza a pagamento e procederanno al rimborso ma pensi rimborso monetario proprio credo di sì credo di sì credo siano forzati da un punto di vista legale a fare una cosa del genere buon per i consumatori insomma sembra che apple un po vada a rilento quando succedono queste cose però poi alla fine accoglie correttamente diciamo i dissensi dissapori dei dei consumatori tra l'altro sempre in questo senso non so se letto cominciano ad arrivare un po i rumors di ios 17 tutte cose legate a cosa ci si aspetta da un punto di vista per ora programmatico quindi diciamo con un forte accento al lato sviluppatori è una delle cose più interessanti che ho visto in giro è il fatto che sembra sembra che apple voglia in qualche modo diminuire la dipendenza da web kit mi riferisco ai browser come ben sai tutti i browser che ci sono oggi praticamente sono la stessa cosa perché apple impone a tutti gli sviluppatori software che fanno applicazioni come browser di utilizzare web kit il motore che utilizziamo su safari sia su is che su mac os ebbene sembra che con ios 17 tra le tante cose ci sarà anche un rallentamento un relax da questo punto di vista sì non credo però che sia diciamo una cosa che viene da apple ma sia una di quelle imposizioni che vengono dall'alto almeno a leggere le richieste fatte all'unione europea per quanto riguarda gli obblighi di apple comunque delle multinazionali tecnologiche per quanto riguarda la concorrenza ci stanno anche c'è anche la questione browser su ios quindi si possono avere browser di terze parti ma non si può obbligare apple cioè o meglio apple non può obbligare a chi crea i browser di terze parti l'utilizzo del proprio engine e quindi obtortocollo al solito dovremmo avere un chrome con chromium un file fox con gecko eccetera però secondo me questa qua non è una cosa sbagliata ti sento dalle dal tuo tono di voce che la vedi come forse una una un problema una limitazione per gli utenti us secondo me è una un'ottima cosa ho delle idee un po contrastanti nel senso che fa sempre bene per la concorrenza in realtà è secondo me è proprio web kit che crea concorrenza a chrome ok nel senso che nel momento in cui io non so quali siano le statistiche di utilizzo di chrome su ios però nel momento in cui su ios si apre la possibilità di avere engine che siano diversi da web kit ho paura che andremo a finire in un monopolio di chromium come engine diciamo web di browser per tutti cioè per computer per smartphone questo è un problema di apple che non riesce ad essere abbastanza concorrente rispetto competitiva scusami rispetto a chrome detta così sembra questo il problema detta così sembra questo però il problema qual è che ios è l'unica piattaforma di grandi numeri quindi che fa massa critica dove l'utente deve per forza utilizzare web kit ok quindi dove non hai scelta nel momento in cui va a accadere questa limitazione se la vogliamo definire così chrome ha già la maggioranza degli utenti per quanto riguarda le altre piattaforme non parliamo ovviamente di android ma se metti anche i mac penso che molti utenti utilizzano chrome come browser principale al posto di safari e questo da un lato diciamo sebbene l'obiettivo può sembrare quello di aprire la piattaforma a competitor terzi in realtà non fa altro che rafforzare ancora di più la posizione di chrome o meglio di chromium come engine html d'altro canto mi viene anche da dire che web kit su ios ti garantisce delle feature di sicurezza antitracciamento dell'utente che ovviamente nel momento in cui google può utilizzare il suo engine all'interno di chrome viene verranno poi a mancare diciamo che la limitazione non è quella che devi usare web kit è quella che proprio devi utilizzare la vk web view quella fornita con l'Sdk di di apple quindi di xcode essenzialmente e quindi nel momento in cui tu utilizzi quel componente lì vai a cadere in tutti i settaggi di sistema content blogger eccetera eccetera che in un certo senso ti impediscono a te sviluppatore di fare un po quello che ti pare con i dati dell'utente per me utente rimane una garanzia ovviamente nel momento in cui viene a cadere questo tutti potranno a partire da facebook perché poi sai questa cosa si estende non solo ai browser in quanto tale ma si potrebbe estendere anche alle app quindi nulla vieterà facebook di utilizzare per le proprie web view un engine che non sarà web kit certo vista così diventa un problema però parlo da sviluppatore per poter utilizzare ad esempio supponiamo che facebook voglia utilizzare l'engine di chromium per poterlo fare dovrà richiedere all'utente di installare chromium chrome come applicativo perché altrimenti l'engine non sarebbe disponibile o google già da ora questo non lo so quindi mea colpa per l'ignoranza però già da ora google fornisce delle sdk per ios che includono dentro un motore web non credo beh nulla ti vieta però di fartelo cioè nel senso nel momento in cui tu hai l'engine te lo puoi compilare per ios e crearci un bra per sopra che ti fa il rendering in una in una ui view ho capito quindi in quel caso ad esempio google se questa cosa dovesse andare in porto potrebbe creare così come fa per firebase per fire messaging eccetera creare un sdk che ti permette di integrare all'interno delle tue applicazioni il motore di chrome si potrebbe o se sei facebook e quindi hai una barcata di soldi te lo puoi fare anche in casa vabbè chiaro 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 certo visto così non è non è il massimo tra l'altro questa cosa qua è molto sentita da apple di recente noi abbiamo rilasciato un prodotto che utilizza una login di salesforce per un prodotto enterprise su cui ho lavorato ios per fare questa login ovviamente c'è uno out dietro che funziona su una sf safari view controller no tutta questa roba qua si porta dietro dei cookie che appartengono a tutta la piattaforma di salesforce ebbene apple ci bocciò l'app in un primo giro perché nella pagina di login appariva una una dicitura su cookie e altro e loro ci dissero guarda che questa login qua dice che utilizza dei cookie di tracciamento quindi se voi utilizzate questo sistema dovete utilizzare il nostro pop up di sistema che indica l'utente che potrebbe essere tracciato all'interno di sistemi terzi che non sono quelli dell'applicativo quindi loro sentono molto questa cosa quindi detta da questo punto di vista hai proprio ragione sì infatti quella è la mia preoccupazione più grande semplicemente che nel momento in cui tu lasci mano libera agli altri che ovviamente gli altri non siamo né io né tu ma sono google facebook eccetera 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 e poi ovviamente vengono le maglie vengono allargate e loro possono approfittare a spese della privacy dell'utente sì degli ignari utenti ho visto qualche tuo come si chiamano tweet come i i toots mi pare ho visto ho visto qualche tuo toots su mastodon relativamente restando in tema al side loading delle app mi è sembrato di capire che non sei molto come dire molto contento di questa cosa che potrebbe accadere che dio ci aiuti no guarda in realtà non sono tanto contrario al side loading ma sono molto contrario agli app store di terze parti quello secondo me è una cosa che apple dovrebbe evitare fino alla morte perché ho visto cosa significa su android dove da sviluppatore dover supportare app store di terze parti e diventa un bagno di sangue cioè praticamente devi moltiplicare perenne gli effort di rilascio di un'app si diventa diventa molto complesso ma io invece non sono molto abbezzo a questo a questo tema perché i prodotti che sviluppo in flutter vanno dritti sul sul play store cosa cosa significa in sostanza dover supportare questo tipo di di store alternativi c'è una ricompilazione non basta la ipa o il il bundle in generale distribuito su vari store dipende dalla dall'implementazione del singolo store di base no cioè tu ti dovrai compilare l'app quindi diciamo il binario non firmato dovrebbe essere condivisi condivisibile per tutti gli store poi però ogni store ha le sue politiche quindi immagino che quasi tutti gli store avranno delle firme da da fare dei certificati per firmare l'app ma poi la cosa diciamo complicata è che dovrai gestire la pubblicazione su n store quindi descrizioni screenshot poi dipende se c'hanno delle politiche di review anche in quel caso quindi fare la review e tenerle sincronizzate insomma è una bella rottura di scatola se vogliamo essere politically corrette ma a me piacerebbe che questa cosa prendesse forma attraverso il concetto appunto di side loading cioè dire come dicevi all'inizio non store terzi ma la possibilità di poter scaricare la ipa opportunamente firmata attraverso ad esempio il meccanismo notarile che già c'è su mac os poter scaricare la ipa installarla sul proprio dispositivo dal sito del dal proprio sito ad esempio se si è un'azienda che produce un prodotto particolare per per ios magari che ha necessità di accedere a api terze ad esempio mi viene in mente i famosi meccanismi di sniffing o i network analyzer che ci sono no questi qua da un po di tempo non funzionano più a dovere su ios perché ci sono state delle grosse limitazioni rispetto a quello che puoi vedere all'interno dello stack di network di ios e questo mi piacerebbe poterlo continuare a fare cioè dire io che sono azienda che sviluppo questo prodotto non posso più metterlo sull'app store per ragioni giuste legate al fatto che in generale questa caratteristica potrebbe essere abusata però ho un mio certificato notarile emesso da apple e quindi in qualche modo sono certificato da apple e chi vuole può assumersi la sua responsabilità e scaricarsi il prodotto dal mio sito internet certo chiaramente questo qua lascia spazio anche a tutto il meccanismo di bypass dei controlli legati all'acquisto in app e quindi ad esempio tutta la storia che ci fu con epic ma anche ora con twitter per la storia del beige blu che elon musk vorrebbe vendere attraverso l'applicazione twitter pagando una fee mensile per avere il beige certificato blu potrebbe benissimo farlo attraverso la versione di twitter per ios che non passa più dallo store ma si scarica dal sito web di twitter.com bisogna vedere come loro intenderanno diciamo implementare questa cosa allora permettiamo che tutto questo lavoro nasce ovviamente da una regolamentazione che ti costringerà ad aprirsi in qualche se in qualche modo e che lo status quo non è diciamo perseguibile all'infinito cioè prima o poi arriverà se non è già così per quanto riguarda ecco le nuove normative europee che entrano in vigore dal 2024 se non sbaglio apple dovrà in qualche modo a aprirsi ora sta a lei da un lato interpretare la normativa per essere compliance compliant anzi scusa e dall'altro decidere quanto si vuole aprire diciamo che ci sono tante sfumature che si possono percepire in in questa storia la peggiore secondo me è quella di fate quello che vi pare già nel senso da ios 17 chiunque si potrà fare il proprio store quindi potrà avere un'icona sulla home dell'utente che tu tappi e all'interno c'è uno store dove ti puoi scaricare app firmate da chissà chi scritte da chissà chi senza nessun processo di review dove puoi utilizzare qualsiasi cosa ti pare anche metodi di pagamento che non siano quelli di apple eccetera eccetera e quindi questa secondo me è un estremo l'estremo più basso è quello che raccontavamo prima quindi permetterti di distribuire delle app che comunque sono sottoposte a un processo di verifica da parte di apple anche automatico non diciamo una review umana e che poi vengono distribuite vengono comunque firmate da uno sviluppatore diciamo identificato e registrato nella piattaforma di app store e distribuite come come ti pare a te da un sito web eccetera eccetera questo secondo me è l'estremo più più basso poi in mezzo ci sono tante tante sfumature che possono possono arrivare la sta ad apple trovare la quadra io spero che non zigari le braghe completamente all'unione europea e non vada ad aprirsi più di quanto non sia richiesto e necessario perché io so come finirà finirà che le app quelle degli sviluppatori più importanti come possono essere facebook come possono essere anche twitter stessa google o tutte le aziende che fanno porcherie andranno via ad app store e verranno distribuite con metodi alternativi e quindi là le cose sono due o tu utente rinunci a un certo grado di sicurezza e ti apri a queste piattaforme alternative oppure rinunci ai prodotti e alle app di queste grosse multinazionali sì c'è un rischio concreto che la cosa purtroppo finisca così però secondo me apple non ha necessità di arrivare a questo questo punto cioè dire riguardando un po quello che la comunità europea chiede ad apple secondo me basterebbe semplicemente dare la possibilità appunto di fare un side loading classico non c'è questa necessità di store alternativi tra le altre cose non è nello stile di apple cioè dire dare troppo comunque sempre una posizione dominante per quanto il precedente europa stia appunto diventando un precedente molto importante per la gestione politico barra burocratica di apple nel mondo comunque la posizione di apple è comunque dominante dico sta diventando un precedente perché leggevo credo su macrumors o su nine to five non mi ricordo che chiaramente questa cosa dovrà essere in questo momento l'unica che richiede questa tipologia di trattamento è l'unione europea però nulla vieta a nazioni terze di chiedere la stessa cosa e quindi a quel punto c'è un precedente bisogna in qualche modo ottemperare a quello che è stato fatto già per ad esempio in america banalmente inizialmente da quello che capivo questa cosa non entrerà in vigore semmai entrerà però c'è già in corso una battaglia legale nei confronti di apple per cui appunto si chiede che la stessa cosa venga fatta anche negli stati uniti e così via india cina insomma lì a quel punto caduto un primo tassello caduto un primo mattoncino di questo muro sai come funziona no quindi la cosa diventerà abbastanza comune vedremo onestamente viene un po da ridere perché tanti anni fa ci fu un uno di quei sai trailer che vengono mostrati all'inizio delle wwdc che si intitolava apocalipse che dipingeva un futuro ipotetico disastroso in cui si spegnevano i server di apple per un errore di uno dei dipendenti che staccava una una presa e quindi le app scomparivano dai dispositivi di tutti gli utenti nel mondo e quindi c'era questa questa simpatica scena in cui gli utenti dovevano recarsi in questi sorti di store alternativi dove c'erano dei dei brutti ceffi con facce strane che ti provavano a vendere e dei rimpiazzi alle app tradizionali no mi fa un po ridere perché sembra quello che potrebbe succedere nei prossimi anni sì ma è esattamente quello lo scenario ma tra l'altro i rumors dicono anche che dentro apple stessa i dipendenti dei sviluppatori non siano molto soddisfatti di questa possibile evoluzione che arriva sì cioè senso loro dicono stiamo perdendo un sacco di tempo almeno questi sono rumors che sono usciti in questi giorni secondo loro stanno perdendo tempo un sacco di effort e di energie per creare questo meccanismo di store di terze parti quando invece dovrebbero concentrarsi a creare il prodotto migliore possibile per l'utente creare feature per per questo è assolutamente vero e ahimè è uno dei problemi dell'apple moderna io ne parlo tanto quando quando mi capita sono un sostenitore di questa tesi cioè dire apple da un po di tempo a questa parte fa troppe cose un tempo l'apple iconica degli anni 80 barra 90 era un'azienda che produceva hardware e il sistema operativo ci stava dentro no era un connubio tipico anzi ideale tra hardware e software però appunto l'azienda era distinta dalla sua creazione di prodotti hardware computer il macintosh il 2c lisa poi arrivarono gli ibook i powerbook e così via adesso invece un'azienda che fa tutto è un'azienda polietrica che spanna dal dai servizi cloud all'hardware appunto passando per i software dedicati insomma c'è davvero tanto da fare e per quanto l'azienda abbia tantissimo denaro comunque come dicevi tu ricordo in una famosa puntata avere 10.000 dipendenti non significa poter risolvere i problemi software perché appunto la difficoltà non scala linearmente e quindi secondo me dovrebbe fare un attimino di di focusing su quello che è davvero importante anche secondo me quando cambieranno geo probabilmente sì probabilmente sì vedremo senti per gli ascoltatori mi sono dilettato per redigere un po la la mind map di questa puntata con il nuovo free form che è una delle caratteristiche più gettonate di questo 16.2 finalmente arrivato era in beta per tanto tempo io non l'avevo mai provato mi son detto ma proviamolo così con emilio abbiamo una scaletta carina bella da poter scrollare consultare mentre mentre parliamo come si chiama in italiano free form ha questo stesso nome oppure sulla versione italiana ha un altro nome a free form quindi questa non l'hanno non l'hanno nazionalizzata meglio meglio così e allora devo dire che a me a prima vista sembra una sorta di di frankenstein tra tra note e keynote perché c'è un sacco di roba che viene da keynote quindi layer nelle immagini vettoriali già pronte testi eccetera e tanto di notes no c'è dire le note comunque giocano un ruolo in questo soprattutto nel meccanismo di consultazione funziona con share play ma io non l'ho mai provato però ho visto un po in giro che c'è gente che si diletta sembra funzionare a dovere non lo so a me sembra carino come 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 sistema tranne che appunto i nostri ascoltatori non lo sanno abbiamo avuto un piccolo problema con con emilio perché io ho redatto questa questa bozza l'ho condivisa con emilio e emilio ne vede solo una parte cioè di alcuni caratteri mancano alcuni oggetti non ci sono e questa cosa sembra non avere soluzione giusto emilio cioè tu continui a non vederla sì sì no in realtà non ne vedo solo una parte vedo un campionamento di quello che hai fatto perché tipo nelle parti scritte con la pencil vedo una lettera sì quattro no poi un'altra sì insomma vedo come se il tuo la tua mind map fosse stata bombardata da qualcuno da qualcosa e quindi vedo un sacco di buchi e mancanze io credo sia un problema di iCloud o comunque dell'implementazione che loro hanno fatto per la condivisione di di questa roba qua forse non gli piace come non gli sono piaciute le modifiche non onestamente non ne ho la più pallida idea sarebbe carino provarlo con share play magari in quel modo funziona un pochino meglio il software è molto è semplice da un punto di vista di di ui almeno per quanto riguarda la versione mac però è molto carino a me piace il concetto noi lo utilizziamo molto in azienda non freeform ma strumenti alternativi lo utilizziamo per fare delle retrospettive quando facciamo delle riunioni abbiamo utilizzato dei prodotti lato web tipo miro ad esempio non so se lo conosci e quindi si apre questo canvas gigante dopo ognuno può inserire quello che gli pare post it note insomma una sorta di luogo condiviso per scrivere degli appunti o quello che ti passa per la testa quindi l'idea di avere una soluzione fatta da apple per l'ecosistema apple per me è un grosso un grosso vantaggio perché mi svincola da servizi di terze parti che quasi mai hanno un'app nativa ma si basano sempre tutto su browser quindi questo mi piace credo che si possa utilizzare benissimo come applicazione stand alone quindi per farmi le mie mappe concettuali o degli schemini già laura mi ha detto che ci organizzerà il prossimo viaggio questa roba qua ho la versione condivisa che non credo sia quello che abbiamo fatto noi quindi che uno crea e l'altro vede ma proprio una compilazione fatta con share play per vedere per compilare insieme una mind map ma io in realtà te l'avevo condivisa proprio cioè tu hai gli stessi miei permessi sì sì no ma in realtà io non ovviamente ci posso scrivere però non so non credo che lo vedo io in tempo reale quello che tu fai ah boh questo non lo so possiamo possiamo provare io ho la penna in mano se io qui sto scrivendo in alto ho messo delle delle robe dei segni sopra uscita us 16 2 non so se di vedi vedo che sta girando una rotellina però continuo a non vedere niente ma probabilmente è una qualche problema sì probabilmente sarà qualche problema che verrà risolto in futuro tecnicamente da quello che ho letto o share play o la condivisione diciamo asincrona quindi io creo il documento te lo condivido dandoti permessi dovrebbe essere la stessa cosa quindi se noi apriamo se apriamo il documento dovremmo poterci scrivere tutti e due vediamo in tempo reale quello che quello che succede che un po se vuoi è quello che succede secondo me si sono portati dietro tutto lo stack della suite dove c'è page number e così via perché anche lì tu puoi condividere un documento in realtà la funziona abbastanza bene io condivido dei documenti di spreadsheet o dei documenti page e quando uno degli collaboratori comincia a scriverci io vedo in tempo reale quello che viene fatto sul sul documento secondo me lo stack di comunicazione è pressoché uguale anche qui non credo che l'hanno reinventato probabilmente o io ho combinato qualche stupidaggine oppure ancora il prodotto è un po' acerbo quindi ci vorrà qualche piccolo aggiustaggio però tecnicamente dovrebbe funzionare così credo di sì credo che magari è un po' acerbo sarebbe carino una componente web aggiungerlo dai cloud sta roba qua anche solo in modalità lettura come prima implementazione come mai questo è sai ne parlavamo l'altro giorno succedono sempre queste cose in apple sì hai assolutamente ragione bellissima idea che tra l'altro tutta la suite di page number eccetera quelle disponibili sui cloud quindi ma probabilmente secondo me sono questione di tempo io prevedo che primo quarter di dell'anno prossimo secondo me arriverà anche questo su web sì probabilmente relativamente ai concorrenti mi ricollego a quello che dicevi hai assolutamente ragione cioè dire di concorrenti in questo campo delle whiteboard delle canvas dove puoi andare a scrivere in maniera collaborativa ce ne sono davvero tante il vantaggio di apple come accennavi tu è legato al fatto che qui ce l'hai disponibile gratis sul sistema quindi hai la certezza che chiunque abbia ios 16.2 che a vedere un po le statistiche secondo me a marzo aprile sarà il 99 e passa potrai condividere qualcosa chiaramente questo aumenta un po il lock in che hai nell'ambiente perché uno dei più grossi concorrenti di freeform è notability non so se se la conosci però è un'applicazione molto simile che ti permette appunto di fare questa condivisione di contenuti di note in tempo reale verso gli altri lì devo dire c'è un pivot una una devianza molto forte verso la presentazione perché appunto c'è tutto un meccanismo per nascondere delle note che tu puoi vedere su uno schermo secondario per darti un aiuto mentre presenti e ti permette di aggiungere delle note vocali sembra un po più maturo come come prodotto però ahimè comunque se il prodotto freeform andrà avanti e in generale i prodotti di apple non sono quelli di google ecco se è stato fatto freeform mi aspetto che per i prossimi dieci anni o comunque giù di lì sarà un prodotto stabile che continuerà ad essere curato e aggiornato quindi la vedo dura per i concorrenti terzi anche perché a differenza di le suite page number che devi installare da app store questo è pre installato su sul sistema operativo quindi te lo trovi sia su ios di default ma anche sul mac quando lo lo compri diciamo o installi il sistema operativo da zero quindi è proprio un app di sistema come note promemoria eccetera sì l'hanno l'hanno resto proprio quindi c'è un forte effort di apple da questo punto di vista cioè probabilmente lo vorranno spingere molto nei prossimi mesi sono critico però sono molto soddisfatto del prodotto funziona bene io sto cercando di utilizzarlo quanto più possibile anche nel mio lavoro mi sono creato un bel po di di sketch dove prendo appunti perché sai molte volte io l'ipad lo uso per questo alle fine le note le prendo la maggior parte del tempo con con l'apple pencil ci vado a scrivere sopra quindi avere uno strumento alternativo che comunque mi dà delle cose in più tipo i layer i layer mi mancano tantissimo su note che non è pensato appunto per scrivere a mano libera quindi quello che ti fa fare te lo fa fare con poco supporto l'unica cosa che mi piacerebbe e che manca sono gli strumenti a disposizione sono un po pochini ad esempio le pen non c'è un evidenziatore questa è una cosa stranissima perché nella toolbox di note l'evidenziatore c'è qui non c'è ci sono c'è una sorta di pastello corrugato c'è una penna di precisione c'è una penna normale c'è una penna per scrivere c'è il selettore c'è il la gomma da cancellare però manca un evidenziatore quello io lo uso molto spesso perché vado a evidenziare dei concetti che poi devo rimarcare durante una presentazione durante la stesura di un documento qui manca completamente l'unica cosa che puoi fare è utilizzare appunto il pastello per creare una zona colorata e poi scriverci sopra che devo dire non è proprio felicissima come cosa tra l'altro vedo che su mac non hai tutte le azioni che hai su su ipad cioè banalmente non puoi scrivere a mano libera utilizzando ad esempio il trackpad del mac puoi soltanto scrivere con la tastiera ma io quella io credo quella per mac non l'ho vista ad essere sinceri io l'ho solo utilizzata su su ipad io credo che quella sia una versione di compatibilità emilio questo è chiaramente un prodotto dipinto e pensato cucito attorno all'ipad secondo me è quello il suo prodotto fino a quando arriveranno i mac su cui puoi scrivere poi sul monitor con la penna l'anno prossimo con le dita con le dita con questi modi diventeranno una schifezza ma io sono sicuro che prima o poi arriva noi ci scherziamo però secondo me prima o poi arriveranno a proposito di scherzare un'altra caratteristica su cui sta puntando davvero tanto apple ho visto pubblicità a manetta su su siti in generale se ne parla tanto apple sing questa questa caratteristica di apple music arrivata con la serie c2 tu l'hai provata sì sì l'ho provata e mi è piaciuta molto devo dire che mi sono divertito ho preso un paio di canzoni dei miei tempi tipo 883 ed è stato divertente devo dire che anche la ui abbastanza azzeccata mi è piaciuta l'implementazione che hanno che hanno fatto mi dispiace solo non poterlo utilizzare su apple tv perché come ti dicevo la mia non ha la cpu adeguata necessaria per per operare quella roba però diciamo su iphone è stata abbastanza divertente mi piacerebbe sai cosa ho visto che loro hanno allora loro algoritmo funziona davvero bene lo dicevamo in nella puntata precedente per ora l'abbiamo provata anch'io l'ho provata tanto in questa settimana tanto l'ho provato un bel po di ore con i bambini ci siamo divertiti anche con mia moglie a lei piace molto cantare quindi ci siamo messi a a ridere un po la sera e su alcuni pezzi il sistema di cancellazione della voce della traccia vocale non funziona perfettamente c'è dire si sente comunque un eco di sottofondo che conferma quello che dicevi tu la la volta scorsa c'è dire c'è proprio un forte sforzo a livello ingegneristico a livello algoritmico che va a cancellare a sopprimere in qualche modo e a ricostruire il brano senza la traccia musicale vabbè questo voglio dire se ne può anche fare a me insomma non è che sia necessario per forza avere una traccia pulita anche perché credo non sia proprio fattibile quello che invece mi piacerebbe che manca è il feedback della voce sopra c'è dire se tu l'ascolti in cuffia stai ascoltando in cuffia e abiliti la funzione apple sing quello che canti non non lo senti perché non c'è nessun meccanismo di questo tipo e quindi ad esempio se hai il noise cancellation la cancellazione del rumore attiva mi piacerebbe che ci fosse un modo per utilizzare il microfono e avere il ritorno quindi il feedback audio dalle cuffie in maniera da capire come la tua voce si sta sposando sulla traccia e sarebbe bellissimo anche avere una ricostruzione dell'equalizzazione originale di quella traccia vocale cioè ad esempio se tu prendi un brano dove la voce è stata fortemente spinta con un eco con un riverbero eccetera magari sarebbe bello che si riapplicasse la stessa campionatura e la stessa equalizzazione alla voce che arriva dal microfono un po di fantascienza però sì sono sono belle voglio dire fantascienza per noi però loro sono sono apple sai però diventa poi quello un prodotto a sé stante cioè allora io mi aspettavo mi aspetterei un app di karaoke piuttosto che una feature di apple music dove hanno più spazio di manovra dici dove si possono muovere in maniera più pertinente con queste cose anche più autonoma sì possono fare delle scelte di design di ui più o più libere rispetto a quelle che il prodotto music cui focus è quello di venderti la musica essenzialmente sia in abbonamento che che non sì ti permette però sì sono tutte sono tutte belle idee tra l'altro credo che sarebbe carino se esponessero le api per fare la voice cancellation chiamiamola così bellissima questa cosa in quel caso utilizzando apple music per cui già esistono le api chiunque si potrebbe fare la propria app di karaoke usando ma questo secondo me non te lo fanno fare ma è certo non te lo fanno fare purtroppo viviamo in questo giardino bellissimo però certe cose oramai sai all'inizio quando iniziavo a sviluppare per ragazzi parlo tanti anni fa un po mi facevo questo cruccio delle cose che non si potevano fare però poi negli anni quando mentalizzi entri in questo bellissimo giardino chiuso te ne fai una ragione voglio dire cioè già lo sai questa cosa qua non sarà mai disponibile attraverso i piai attraverso i piai pubbliche come invece non è disponibile ancora questo apple classical no io sono un parito della musica classica la utilizzo molto quando lavoro perché mi concentro non è arrivato questo doveva essere uno dei degli arrivi del 2022 ma non se ne parla ancora e credo che non se ne parlerà più per questo 2022 sì non lo so quale sia la difficoltà nel fare un catalogo di musica classica al netto se ovviamente i brani ce li hai ma ce li hanno già loro io non ho capito infatti qual è la storia che sta dietro questa questa roba qua cioè non l'ho capito cioè perché loro hanno un sacco di roba classica e te lo dico perché ne ascolto tante di vario tipo musica classica certo non c'è lo scibile di tutta la musica classica però hanno un catalogo molto ricco io non capisco perché non hanno prodotto questa questa variante a meno che non c'è dietro una tecnologia che loro vogliono offrire agli utenti di ascolto diciamo evoluto magari attraverso le ipod max o cose del genere per darti un'esperienza di ascolto simile a quella che tu avresti che ne so in teatro con surround dappertutto questo non lo sappiamo io non credo che la difficoltà sia semplicemente creare una ui attorno a un catalogo di musica classica insomma ma anche perché proprio la ui sarebbe semplicemente una riedizione al massimo di apple music cioè hanno già tutto insomma non credo che manchi ad apple sì credo non non avrebbe nemmeno tanto senso farla cioè basterebbe una categoria a se stand all'interno di apple music io credo che invece ci sia dietro una storia un pochino più articolata riguardo la musica classica tu credi a questo non c'avevo mai pensato sai tu quindi tu credi ci sarà da aspettarsi qualcosa proprio a livello di prodotto quindi quello che puoi ascoltare come lo puoi ascoltare qualità sonora e caratteristiche a contorno probabilmente sì bello allora non vedo l'ora che arrivi ancora di più speriamo sia una cosa del primo 2023 a proposito di airpods credo che ci siano già i primi rumors sulle airpod max seconda versione che dovrebbero arrivare in due varianti la versione per i poveri e la versione per per i ricchi tu a quale variante appartiene no 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 io sono contentissimo delle mie delle mie airpod max non credo che le cambierò cioè l'unico motivo per cui le cambierò sarà la batteria funzionano bene scusa tu hai le airpod max sì sì non ne abbiamo mai parlato non lo sapevi ma dai no non lo sapevo no io in questo momento ti sto ascoltando sulle airpod max ma io l'ho presa ma strano che non ne abbiamo parlato ci fu una una grossissima offerta sai uno di quei black friday l'anno scorso su amazon io l'ho comprato su amazon e l'ho presa ad un prezzo davvero stracciato cioè che oggi questo natale io ancora rido perché il prezzo a cui l'ho presi io non ha niente a che vedere con quello ci fu un'offerta davvero un cutoff molto alto adesso non ricordo precisamente quanto risparmiato ma roba di 200 euro circa è stato un bel risparmio sono davvero contento ce l'ho da più di un anno se non è che non ne abbiamo mai parlato non è capitato allora di di parlare no 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 non è capitato no io sto provando ormai le airpods pro diciamo quelle nuove devo dire che sono abbastanza soddisfatto credo che abbiano migliorato sensibilmente gli algoritmi sia di noise cancellation che di trasparency avvicinandoli un po tra di loro nel senso che il noise cancellation ti dà un senso minore di ovattamento che è il grosso problema ad esempio che c'è qui sulle airpod max io non lo posso utilizzare perché resti completamente fuori dal mondo sei molto vattato esatto quindi invece sulle nuove pro è molto più naturale e di contro invece la trasparency ti fa percepire ovviamente quello che ti circonda però non in maniera spinta come erano le vecchie airpods pro un pochino più calmierato diciamo il rumore soprattutto i rumori la voce cioè non la senti tanto amplificata nelle orecchie la senti quasi naturale ma allora guarda le airpods max sono sicuramente un tassello sotto per quanto da un punto di vista di presentazione sono più grandi delle airpods pro 2 ti posso dire già da ora che ne resteresti deluso rispetto alle due airpods pro 2 perché io appunto vengo dalle airpods pro e tutto quello che mi stai dicendo io lo trovo esattamente identico nelle airpods max cioè dire semplicemente ce le ho più grandi prendono tutto l'orecchio quindi ad esempio se hai poca comodità con gli auricolari qui hai le cuffie tradizionali però tutti i problemi che hai detto ce li ho uguali sia sull'airpods pro che sull'airpods max quindi la trasparency è molto marcata così come il noise cancellation è molto marcato quindi probabilmente ecco cosa sarà il cambio che ci sarà con l'airpods max 2 sicuramente porteranno dietro questa eredità che tu hai raccontato dell'airpods pro speriamo beh è un bel prodotto le airpods max mi piacciono da un punto di vista concettuale un po' meno dal punto di vista del prezzo io ho delle marshall diciamo come cuffie tradizionali chiamiamole così però le trovo un pochino un pochino scomode cioè diciamo non riesco a tenerle più di tanto tempo perché alla fine mi si surriscalda un po' l'orecchio preferisco sempre gli auricolari gli auricolari quando le devo utilizzare per molto tempo in maniera in maniera continuativa allora lo stesso vale con l'airpods max emilio ti posso dire per certo io sai come sai facciamo un lavoro in cui si sta anche 10 ore davanti al computer e capita che inizia la call dello stand up la mattina ti metti l'airpods max e poi te le continui a tenere mentre ascolti musica e lavori ebbene arrivata mezza giornata fai fatica devi toglierle perché appunto senti il padiglione auricolare caldo la storia che dicevano della pesantezza non è assolutamente vera cioè dire io non me ne accorgo non lo avverta questa pesantezza estrema di cui si va parlando a sproposito in giro sono anzi molto ben congegnate e le trovo molto comode al alla prima ora la prima alle due ore tre ore quattro ore ma dieci ore con le cuffie in testa non ci puoi stare cosa che invece puoi fare con gli auricolari cioè le airpods pro sono imbattibili da questo punto di vista sono sono molto meglio ma vedremo cosa arriverà va bene milio la nostra ora è arrivata che detta così non è il massimo però si parla solo di ora della dell'ora abbondante che abbiamo tracciato con con questa puntata quindi non mi resta che augurarti un felicissimo fine settimana qui da noi 24 gradi pieni quindi anche qui anche ma bellissimo cioè io non so cosa ci aspetterà perché prima o poi questa queste tutti questi giornate di sole le sconteremo perché non è normale in inverno però per ora me le godo quindi aspetto che arrivi domani così sto un po in giro con con famiglia anche io idem va bene ci aggiorniamo allora per gli auguri di natale così li facciamo anche agli ascoltatori per poi risentirci il prossimo anno assolutamente grazie buona sera grazie a te emilio grazie a te emilio